E' un gol di Chiara Bini a decidere il match dell'Atletico. Al settimo minuto, approfitta di un'ingenuità della difesa della formazione piacentina. Dopo la rete, gli ospiti della Lucchese si sono chiusi tantissimo, mettendo molto in difficoltà l'attacco dell'Atletico. Un solo tiro in porta nei primi 45 minuti di Matteasti, parato dal portiere Casapieri. Il risultato alla fine del primo tempo è 0-1, verdetto confermato dalla ripresa, senza gol e con un po' di sfortuna per i padroni di casa. Bignotti colpisce un palo. Le due squadre si affronteranno anche nei play-off tra una settimana, ma in casa dei Toscani. Chiude con una sconfitta anche la lupa Piacenza. Al Garilli, nell'ultima giornata, passa il Monticelli 2-1. Del resto i biancorossi sono già scudettati e sono saliti in Serie D. Tutti i risultati della domenica del calcio direttante sono stati al centro della trasmissione di Daniele Losi, da segnalare la Folgore che con la vittoria sul San Corrado è campione e approda in seconda categoria.